Io mi ricordo che c'era una glessidra come questa in casa di mio padre. La sabbia scorre attraverso un forellino così sottile che all'inizio sembra che il livello della parte superiore non deve cambiare mai. Cominciamo ad accorgersi che la sabbia scorre via solo verso la fine, ma prima di allora ci vuole tanto che non vale la pena di pensarci. Poi all'ultimo momento, quando non c'è più tempo, ci si accorge che è troppo tardi per pensarci. Grazie Grazie